Io mi vaccino perché è giusto, voglio tutelare me stesso e voglio tutelare gli altri, siamo stremati, non ce lo facciamo più, questo mostro ci affligge da più di un anno, voglio vedere le persone vivere, ritornare a vivere, tutti sorridenti, attività commerciali che lavorano, tutto funzionante, basta questo mostro, basta, veramente è un mostro, non ci aspettavamo che ci ha messo in ginocchio, quindi vaccinatevi tutti, che è meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.